Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il calcio e con il campionato di Serie C, dunque per la Lucchese si avvicina la trasferta di domenica sul campo della Fermana. Parlando di Lucchese, argomento sempre caldo e interessante, qualche collega già si proietta nel futuro? Vedi caccia e bombero, presunti tali? Una cosa è certa, uno dei maggiori problemi della Lucchese, relegate in un anonimo undicesimo posto, è stata la mancanza di un attaccante di razza, o ancora meglio, di un reparto avanzato che potesse garantire con più uomini la giusta dote di reti. Anche di questo si è parlato giovedì sera a Curvoves, che ha avuto come gradito ospite Giorgio Gorgone. Il tecnico rosso-nero ha spaziato a 360 gradi, ribadendo che la stagione della sua Lucchese non va considerata negativa e addirittura sarebbe ottima nel caso di una qualificazione playoff. Aspettiamo fiduciosi le ultime tre partite, sulle voci che lo vorrebbero tre candidati alla prestigiosa panchina della spaldita Copina, invece glissato, in lizza ci sarebbe anche Alfonso Greco della Torres. Le ultime tre chiameranno Tiritiello, in diffida come Cangianiello e compagni, domenica alla trasferta di fermo contro una fermana invischiata fino al collo in zona play-out, anzi in questo momento i gialloblu marchigiani, vista la forbice di nove punti, sarebbero in serie D. Al Recchioni farà assai caldo, le motivazioni inutili negarlo stanno tutte dalla parte dei canarini di Mosconi e la Pantera dovrà sfoderare orgoglio e carattere se vorrà tornare a Lucca con un bottino ricco che allora sì potrebbe riaccendere le speranze. Non bisogna dimenticare che essendo in svantaggio nei confronti diretti, il Rimini non solo va ripreso ma va superato, ne consegue che in fermana lucchese il pari forse non servirebbe davvero a nessuno. Siamo all'Atletica, il gruppo podistico Parco Alpiapuane riparte da Brescia per consolidare il proprio posto nell'elite del mezzofondo italiano. Si disputerà sabato sera poco dopo le 20 la prova in pista sui 10.000 metri dei campionati di società. La squadra bianco-verde si presenterà con il forte keniano Wanboa, con l'azzurro Nicolò Bedini e ancora con Lorenzo Brunier ma si attendono buoni risultati anche dai vari Mattia Galliano, Marco Zanzottera e una buona gara per tre certezze quali René Cuneaz, Francesco Nardone e Carlo Pogliani. È volata davvero quasi al photo finish tra Forte De Marmi e Trissino per il primo posto della regular season nel massimo campionato di hockey su pista. Sarà l'ultima giornata della regular season del campionato di Serie A 1 di hockey su pista a decidere chi si classificherà al primo posto. Alla vigia è avanti il Forte De Marmi di un punto sul Trissino. Il rosso-blu giocheranno sabato sera a Grosseto contro un avversario che in casa soprattutto si è quasi sempre comportato bene, quindi non sarà una gara affatto facile. I campioni d'Italia in carica invece scenderanno in pista domenica alle 18 fra le Muramiche per ospitare il Bassano in un derby che in qualche modo può sempre creare però delle insidie. In Serie A 2 al Palabarsacchi alle 21 la capolista Cdc Viareggio ospiterà il Prato per proseguire la sua marcia verso la Serie A 1 consolidando i suoi sei punti di vantaggio sulle due inseguitrici. Rotellistica Camaiore che riceve il Follonica e la farma è Pumas che giocherà venerdì 17 maggio alle 20 a Salerno. Il Forte De Marmi è sabato alle 19 a Castiglione. In Spagna per la final four di VUSA il Sarzana sabato alle 16 e 15 affronterà i padroni di casa dell'Igualada mentre alle 18 e 45 il Follonica se la vedrà con il Voltrega. Si sono disputati i ritorni della VUSA Champions League. Eliminate Lodi, Trissino, Barca, Benfica. L'11 maggio le semifinali Sporting Porto e Barceros Oliverense. Il 12 la finale. Bella soddisfazione per il Rugby Lucca. Due atleti convocati a far parte della selezione regionale under 16. Si tratta, li vediamo in questa foto, di Eraldo Massagli, ruolo seconda linea, e di Davide Entrade, utility back. I ragazzi entrambi del 2008 sono stati i protagonisti di un buon torneo che ha visto la Toscana sfidare le selezioni di Lombardia, Beneto e Liguria. A proposito di giovani ce ne sono tre della pugilistica lucchese che promettono davvero molto bene. Li vediamo in azione. La pugilistica lucchese mette in mostra i suoi gioielli, molto giovani e di prospettive, si spera più che luminose. Cominciamo dall'ottima, anzi eccellente prestazione di Abu Bakr e Benelal, iut 60 kg, che a Firenze ha completato il suo piccolo lavoro, vincendo il prestigioso trofeo Neppi e Truria. Torneo quest'anno a livello nazionale, dopo aver superato ben tre turni. In finale ha sconfitto il temibile Roberto Morga, box celano Genova, un franco successo in questa competizione per il 17enne giovanotto di San Vito, che si conferma così un prospetto da tenere d'occhio anche per il futuro. Adesso potrà partecipare alle fasi regionali dei campionati italiani iut. Al Palamacchia di Livorno, nel quinto memoria al Mantovani Fancelli, ben sette pugili lucchesi si sono avvicendati sul quadrato. Tra questi spicca la grande prova coronata dal successo dello schoolboy 60 kg Raul Fortunato, poi premiato come miglior pugile della serata, per la splendida vittoria su Barone del Barone Fight Club Roma, dimostratosi comunque un avversario ostico. Il match è stato bellissimo, ma Raul ha meritato il verdetto. Chiaro che su Fortunato sono riposte grandi speranze, anche in vista dei campionati italiani della prossima settimana a Chianciano Terme dal 17 al 21 aprile. Un carro armato, Livornese, imbattuto e i cui limiti sono ancora inesplorati. A Pisa, accompagnati dal maestro benerito Ivo Fancelli, quattro atleti lucchesi hanno preso parte al Memorial del Papa. Di ottimo auspicio il debutto della School Gear 48 kg Matilde Bernini, che ha vinto prima del limite, match fermato alla prima ripresa, contro Anna Genoa dell'Erpinia Box, che aveva subito già due conteggi. Le immagini sono eloquenti di quanto questa ragazzina di grande personalità si pone sulla scia della bravissima Miria Rossetti Busa. Chiaro che su Matilde si punta anche per la prossima rassegna tricolore, dove nonostante la poca esperienza si propone come assoluta protagonista. Domenica dalle 10 alle 18 il Golf Club Garfagnana organizza una giornata promozionale con Open Day Golf e la possibilità di provare questo sport a contatto con la natura. La giornata coinciderà anche con l'inizio dell'attività golfistica del club. Previsti da qui a fine novembre diversi tornei di campionato sociale, supermaster e circuiti con finali nazionali per un'attività davvero molto intensa. Chiudiamo con la ginnastica artistica e la motto che ottiene altre grandi soddisfazioni. È stato un weekend memorabile per la società ginnastica Raffaella Motto di Viareggio. Oltre al secondo posto nella Serie A1 a squadre di ginnastica ritmica femminile, la società viareggina si è giudicata il campionato di Serie B di artistica maschile, conquistando la promozione in A2. Un risultato senza precedenti per i ragazzi guidati da Gabriele e Leonardo Mattei, secondi nell'ultima prova della Regular Season disputata a Ravenna, dopo i successi nelle precedenti due a Montichiari e Ancona. La motto ha ottenuto il titolo italiano di categoria con 296.550 punti davanti a Civitavecchia e Anzio. La gara si è rivelata complicata e estremamente intensa vista la crescita elevata delle altre squadre partecipanti a questa competizione. La squadra della sezione artistica maschile è composta da atleti giovanissimi Marco Castellano del 2009, Andrea Cervelli 2007, Elia De Angeli 2007, Nicolò Martin del 2008, in prestito dalla società Corpo Libero Gymnastic Team di Padova, Alessandro Salvadorini 2005, Alessandro Salvati 2009. Ciò non significa che non potremmo essere competitivo e anche in A2, hanno detto i tecnici che mandano un ringraziamento anche alla scuola ITIS Galileo Artiglio e la provincia di Lucca per aver dato loro la possibilità di utilizzare la palestra dell'istituto, senza dubbio fondamentale per il raggiungimento di questa promozione che dà sportivamente lustro alla moto, a Via Riggio e a tutta la Toscana. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, mi fermo qui subito dopo gli altri spazi dell'informazione su Noi TV.